ciao a tutti e benvenuti al primo appuntamento web rock id per la batteria oggi voglio parlarvi del 3 su 4 e farvi vedere come svilupparlo sul groove il 3 su 4 quindi un accento ogni tre note su gruppi d4 lo svilupperemo in questo modo come accento utilizzeremo la cassa poi metteremo la mano destra sul charleston e la mano sinistra sul rullante adesso inseriremo questo esercizio nel nostro groove spero che questo input vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo appuntamento